Insomma la situazione del Gran Sasso Terramano è l'imminente apertura della stagione sciistica senza un gestore, che succede? Una serie di problemi però, il problema principale, fondamentale degli impianti sciistici dei prati di Tio è la gestione. La regione Abruzzo negli ultimi anni, recentissimi, ha investito 12 milioni di euro sui prati di Tio. Lo voglio ricordare, le nuove ferrate, gli Obelix, i canoni sparaneve, gli impianti di telecontrollo, il gatto delle nevi, tutto un sistema di videosorveglianza, di controllo, le cabine, quelle in legno dove si può prendere il tempo per far divertire gli sciatori, cronometrando la discesa dello sciatore. Così come vediamo nel nord abbiamo tutto, abbiamo una Ferrari con le chiavi inserite e poi ci perdiamo dietro a investimenti per le manutenzioni che comunque i soldi ci sono e ce ne sono più di quelli che servono. Lì il problema fondamentale, ma questo è l'impianto di tutti gli impianti, la gestione degli impianti a fune soprattutto nel periodo invernale è passiva. C'è una legge, la 77, che ho rifinanziato io con 11 milioni di euro che finanzia anche i rifugi montani e allora partecipate a questo bando, fatevi finanziare i rifugi montani, date l'ingestione a chi prenderà la gestione della seggio cabina via e degli impianti, del pilone e così che sarà. Però bisogna togliere il freno a mano perché sono anni che parliamo di questo e sono anni che questa cosa va avanti. Oggi partiremo, molto probabilmente ce la faremo a partire con una serie di problemi. Oggi c'è la riunione, che cosa succederà? Ma poi si ripresenterà quest'estate, si ripresenterà quest'inverno, se non diamo a chi viene qui a gestire questi impianti la possibilità di essere quantomeno in pareggio e poi nel lungo periodo saprà mettersi bene. Nessuno verrà a gestire questi impianti, né si può fare una gestione diretta perché pantalone non paga più, soprattutto non si possono spendere i soldi per investimento sulla gestione. La Regione Abruzzo, 12 milioni di euro sui prati di Tivo, ha fatto molto molto più di più di quanto è stato fatto nell'arco della vita. Quindi io credo che questo... e ci sono soldi per fare tutto, manutenzioni. Prato Selva, che è fondamentale, entro il 31 dicembre se no quell'impianto è morto, diventa ferrovecchio perché ha una scadenza. E prati di Tivo, cioè bisogna chiudere questa partita e poi fare i processi. Intanto chiudiamo questa partita, facciamo partire gli impianti, poi è chiaro che bisogna capire perché si è arrivati a questo punto, perché negli anni si sono perse tante opportunità. Bisogna capire di chi è realmente la responsabilità e il cittadino deve sapere di chi è la responsabilità. Per cui 49 impianti partono e uno ha una serie di problemi incredibili.